Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video sulla mia pagina Facebook e sul mio canale YouTube. Anche oggi torniamo a parlare un pochino di infortuni, in particolare cerchiamo di analizzare il perché alcune cose possono succedere e vi riporto nuovamente una domanda che c'è sui miei social. Quindi, a iniziare a fare i front travel pull up mi è venuta l'epicondilite, l'epitrocleite bilaterale e ancora adesso non ne sono uscito. Quindi, come mai intanto, aspettate che evito di distruggere tutto, visto che sono bravissimo a distruggere tutto, come mai ti viene l'epitrocleite e l'epicondilite bilaterale facendo i front lever pull up? Allora, i front lever pull up sono un movimento di remato orizzontale, va bene? Quindi, c'è da fare un'importante premessa. Se la tecnica è sbagliata, si sforzano molti più i bicipiti di quanto non si sforzi il dorsale. Infatti, se voi scartabellate un pochino su internet, in quelli che sono i forum che parlano degli esercizi del bodybuilding, vedrete che c'è chi vi dirà che per fare i rematori non dovete pensare a tirare il peso verso la spalla, ma dovete pensare a sparare indietro i gomiti. Questo vi assicura di reclutare bene gli estensori dell'omero e di reclutare un po' meno quelli che sono i flessori del gomito, nel nostro caso per esempio i bicipiti, ok? O comunque tutti i muscoli che vanno ad aiutare quelli che sono, quello che è il movimento di flessione dell'avambraccio sul braccio, come per esempio il braccio radiale, che è dove viene erroneamente associata l'epicondilite, che in realtà è una sindrome del braccio radiale, oppure per esempio anche il pronatore rotondo, che è un muscolo che si trova in questa zona e che sia un muscolo che permette di fare la pronazione, ma assiste anche la flessione dell'avambraccio sul braccio. Quando voi quindi fate il front-over pull-up, se voi chiudete troppo questo angolo, ok? E' troppo poco questo, quindi lavorate più di gomito e lavorate meno di dorso, è ovvio che è andata a sovraccaricare maggiormente i flessori dell'avambraccio sul braccio, quindi i flessori del gomito, fra cui il braccio radiale e per esempio anche il pronatore rotondo, che è un muscolo che assiste la flessione del gomito, ok? Quindi prima cosa la tecnica, come avete visto, a tecnica sbagliata puoi concidere un sovraccarico, va bene? Poi di base, fa da sé che se il front-over pull-up viene approcciato da una persona che non ha una buona preparazione, l'esercizio potrebbe essere pesante anche se la tecnica è perfetta e di conseguenza i tessuti articolari si possono infiammare. Perché? Perché non recuperano abbastanza. Adesso vediamo in ultima analisi perché mi viene fuori prima da una parte e poi dall'altra. Cioè non è che sono nato strano, semplicemente perché avendo mai da una parte, tu sei furbo, tu mica ti fermi, tu vai avanti. E né tentativo di non sentire dolore di qua, cosa fai? Fai un gesto asimmetrico e vai a caricare più l'altra parte. Solo che già è un gesto che, eseguito a due braccia, ti ha fatto incazzare una parte. Quindi è probabile che già il gesto fosse asimmetrico. In più adesso che hai male di qua, lo fai ancora più asimmetrico per evitare di sentire male, caricando tutta questa parte. Ma non è fatta tutta questa parte per prendersi l'onere della sua più quella dell'altra. E quindi è normale che se hai male da una parte, in un modo o nell'altro, se c'è male di sopra, ti s'infiamma anche l'altra. Quindi ragazzi abbiamo visto tre buoni motivi del perché ti possono venire fuori queste problematiche ai gomiti nei front lever pull up.